Musica Chiude il 2017 con oltre 18 milioni di utile e una crescita dell'1,1% rispetto all'anno precedente. È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Estra S.P.A., la Multiutil di Toscana, attiva nella distribuzione e vendita di gas e energie elettrica, il bilancio consolidato 2017. I ricavi si confermano elevatissimi, abbiamo superato nuovamente il miliardo di euro di fatturato, il margine operativo è cresciuto del 4,1% e l'utile è pari a 18 milioni e 100. Risultati importanti che dimostrano però che è un'azienda che non tende unicamente al profitto, ma restituire al territorio ricchezza, occupazione e tanto sostegno alle buone iniziative che sponsorizziamo a livello locale. Quindi un grande risultato che è un viatico positivo ulteriore all'imminente sbarco in Piazza Affari. Ecco, si avvicina sempre di più insomma a questo sbarco? Sì, diciamo non ci si può esprimere al riguardo ma è una nostra aspirazione e speriamo che si concretizzi il più presto possibile. Ricordo che non si può parlare di una privatizzazione, andare in borsa significa accedere con una modalità più complessa a finanziamenti importanti per garantire lo sviluppo di questa azienda. All'orizzonte ci sono le gare per la distribuzione del gas, dovremo preservare i nostri territori e conquistarne anche altri, ma soprattutto investiremo in altri business regolati. Noi guardiamo a tutta la Toscana e alla possibilità di fare di Estra la vera multiutility capace di gestire non solo gas e energia, ma occuparsi anche di ciclo idrico e perché no di rifiuti. Tutte le amministrazioni toscane adesso hanno Estras cui puntare per ritornare a governare nel segno del pubblico, di un pubblico efficiente, i servizi pubblici, evitando speculazioni e garantendo tariffe più basse. Cosa ci sarà nel futuro di Estra? Quali sono i prossimi progetti? Insomma, li ho sottolineato molti di questi progetti. Ci sono appunto i tanti investimenti per recuperare sovranità amministrativa per conto dei comuni e andare a gestire nuovamente in chiave efficiente e industrialmente competente i servizi pubblici. Quindi immaginiamo una gestione più corretta, contenuta e trasparenza anche di acqua e rifiuti. Ce lo auguriamo. Grazie a tutti.